Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale! Oggi sono particolarmente contenta perché sono riuscita a realizzare questo doposole che veramente ci ho messo tantissimo per studiarlo, per realizzarlo, ho fatto tante prove e sono riuscita entro l'estate per fortuna a realizzarlo. Eccolo qui, io già l'ho provato, infatti come potete vedere già è stato utilizzato, ho fatto tante prove proprio perché io volevo raggiungere una determinata consistenza, nel senso che non mi piace troppo acquoso, troppo liquido, però non mi piaceva nemmeno quello da vasetto, quindi ho fatto veramente tantissime prove. L'ho detto un sacco di volte che ho fatto tantissime prove, vero? Bene. Sono fatti solo 100 grammi e vi faccio vedere che si fonde subito con la pelle. Eccolo qua. Un'altra cosa che volevo è che fosse idratante, però non pesante perché comunque stiamo parlando di un prodotto che verrà messo dopo la doccia, dopo che siamo andati al mare, quindi doveva essere qualcosa di veramente leggero, qualcosa di confortevole. All'interno ho messo una serie di estratti e attivi, quindi vanno tutti quanti a lavorare su quelli che sono le scottature, le irritazioni. Ho messo come base l'acqua di camomilla, che ovviamente ha delle proprietà calmanti. Poi l'ho arricchita in fase C con l'estratto glicolico di camomilla e di calendula, che vanno a lavorare proprio su quelle che sono le irritazioni e gli arrossamenti. Il bisabololo che non può mai mancare. Poi alla fine, pure questa fa parte delle 2000 prove, ho inserito la fragranza Cocosan, che io ho acquistato da Romazon. Io l'amo perché è proprio di estate. Ovviamente il cocco c'è chi piace e chi non piace, è una classica fragranza dolciastra, però secondo me è azzeccatissima per questo tipo di prodotto. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale, che come voi sapete a me fa tantissimo piacere. Intanto vi preparo. Sto iniziando ad editare, a preparare dei video dedicati ai capelli, alla cura dei capelli naturali. Io ho dei capelli secchi, rovinati, ormai io sono proprio una di quelle che ha abusato di piastre, di phon. E quindi sto preparando delle ricettine che andranno a lavorare sui capelli, però mantenendo la sostenibilità ambientale e provenienti da materie biologiche. Spero che vi piaceranno, ci sto lavorando tantissimo, a me piace tantissimo fare queste cose, non so se si era capito. Nulla, io vi lascio al video e ci vediamo alla prossima. Allora, partiamo dal Carbopol Ultrez 21 che andiamo a disperdere all'interno dell'acqua. Lo lasciamo così idratare e lo mettiamo da parte. In un altro becker andiamo a disperdere la xantana nella glicerina e andiamo a creare il gel aggiungendo, nel nostro caso, acqua di camomilla o di calendola oppure facendo un mix delle due. In un altro becker prepariamo tutta la fase B che andremo a riscaldare a bagnomaria. Nel frattempo riprendiamo il gel di Carbopol, quindi lo frulliamo e andiamo ad aggiungere il gel di xantana. Un'altra frullata al volo e poi andiamo a riscaldare anch'esso che deve raggiungere la solita temperatura di 70 gradi. Ok, quando entrambe le fasi sono ben calde aggiungiamo una prima metà di fase B, quindi gli oli, all'interno del gel e andiamo a dare una frullata. Vedete che il mini peamer io lo tengo sempre immerso, non deve mai sollevarsi. Aggiungo l'altra metà della fase B e do un'altra frullata. All'inizio vi verrà un po' liquida, non vi preoccupate perché poi si solidificherà. A questo punto ho preso l'avena colloidale che è ricca di principi attivi lenitivi e vado a disperderla in poca crema. Mi raccomando, deve essersi un po' raffreddata, quindi la disperdo in poca crema e poi la inserisco nel composto. Faccio lo stesso anche per la vitamina C, quindi le polveri le disperdo a parte. Dopodiché aggiungo il macerato oleoso di carota ricco di vitamina A e aiuta a mantenere la nostra abbronzatura più a lungo. Misuro poi il pH che deve essere 5,5. Do un'ultima piccola frullata finale per addensare il tutto e nulla, il doposole è pronto! Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale! Ci vediamo alla prossima! Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale! Grazie! Grazie! Grazie!